Buonasera telespettatori, in apertura la situazione Covid aumentano i contagi e diminuiscono i ricoveri. In Piemonte nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 6 mila casi di coronavirus. Per quanto riguarda i ricoveri nelle varie strutture ospedaliere ci sono una quarantina di persone in meno rispetto a ieri. Sono 805 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 36 in meno rispetto a ieri e 18, 5 in meno di ieri, quelli in terapia intensiva. A Novara salgono invece a 43 i ricoverati positivi al Covid, 13 sono in terapia subintensiva, 10 sono in malattie infettive e 20 sono ricoverati all'ospedale di Gagliate. Nelle ultime 24 ore nessuna situazione critica, non ci sono stati decessi a Novara e per il momento per quanto riguarda il Covid la situazione resta sotto controllo mentre prosegue la campagna vaccinale ed è in corso in Piemonte proprio in queste ore la somministrazione della quarta dose del vaccino ai soggetti fragili e agli ultraottantenni. Somministrazione che è partita da giorni anche a Novara e che si prepara a prendere il via anche a Vercelli il prossimo 29 aprile. Sentiamo. Al via presso l'asla di Vercelli la somministrazione della quarta dose per over 80 e over 60 vulnerabili. Interesserà su tutto il territorio dell'asla 18 mila persone. Il primo appuntamento è per venerdì 29 aprile presso la piastra di Largo Giusti e Vercelli dove già sono state convocate 200 persone. Da maggio la campagna entrerà nel vivo anche per la popolazione residente nell'area nord del territorio e quindi in Balsesia che riceverà le somministrazioni all'ospedale di Borgosesia, nelle case della salute e nei centri che saranno messi a disposizione dai comuni. Al momento sono già stati confermati ad Alania e Prai. La campagna come abbiamo detto coinvolge complessivamente 18 mila persone sul territorio dell'asla di Vercelli. Gli over 80 sono 6059 residenti a Vercelli e provincia in pianura e 5048 in Balsesia. I vulnerabili sono 2868 a Vercelli e in provincia in pianura mentre 1443 sono in Balsesia. Mentre le terze dosi riguardano un totale di 2576 persone e vengono somministrate a quattro mesi dall'ultima somministrazione a 1859 persone nella zona di Vercelli e pianura e 717 in Balsesia. Tra questi risultano inoltre 1440 intrasportabili già censiti coloro per i quali l'intrasportabilità fosse sopraggiunta dopo l'ultima somministrazione possono richiedere all'asla di essere inseriti in questo numero. Mercoledì 27 aprile invece ha preso il via la vaccinazione con quarta dose di circa 1000 ospiti delle 38 RSA presenti sul territorio. Restiamo in tema perché domani a Vercelli si presenta il libro testimonianza sul covid a cura di Lella Beretta. Sentiamo. Giovedì 28 aprile a Vercelli si terrà la presentazione ufficiale del libro Covid-19 l'ospedale in tempo di pandemia della fotografa Lella Beretta con la collaborazione editoriale di Roberta Petrino. Nel corso della presentazione ci sarà la presenza importante di Giulio Pretti sopravvissuto al covid che porterà la propria testimonianza. Interverranno inoltre Eva Colombo direttore generale dell'asla di Vercelli, Silvio Borrè direttore della sezione di malattie infettive dell'ospedale di Vercelli, Sergio Macciò della cardiologia, il direttore del distretto sanitario dell'asla di Vercelli Germano Giordano e Pier Giorgio Fossale già presidente dell'ordine dei medici. Il ricavato infatti della vendita del libro sarà destinato all'acquisto di due compressori automatici per la rianimazione cardiopolmonare degli ospedali dell'asla di Vercelli. Ricordiamo che il libro è frutto della raccolta di immagini realizzate dalla fotografa vercellese Lella Beretta durante il periodo della pandemia quando Beretta entrò nell'ospedale di Vercelli per raccogliere le testimonianze fotografiche di quanto stava accadendo. Un libro toccante che serve a tutti per non dimenticare quanto abbiamo vissuto nel 2020 nei primi mesi più duri della pandemia e delle tante morti che hanno toccato anche il nostro territorio. Ed ora parliamo delle azioni per contrastare la discriminazione e la violenza di genere in provincia di Novara. Lo facciamo in questo servizio. È iniziato nelle settimane scorse all'ITOMAR di Novara il corso di formazione per le nuove operatrici e operatori dei punti informativi della rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte operante sui territori provinciali di Novara, Biella e Vercelli. Il corso è promosso dal nodo contro le discriminazioni della provincia di Novara con il sostegno della regione Piemonte ed è organizzato da INAIP in collaborazione con Ires Piemonte. L'iniziativa è articolata in nuove elezioni, in parte in presenza e in parte a distanza, si concluderà a fine maggio. Sono 37 le persone iscritte, operanti presso associazioni, scuole, enti di formazione, centri per l'impiego, sindacati, cooperative sociali, enti locali, enti gestori dei servizi socioassistenziali. La formazione intende fornire le competenze di base per saper riconoscere le principali forme di discriminazione fondate su molteplici fattori, tra i quali la disabilità, il sesso, l'origine etnica, l'orientamento sessuale al fine di prevenirle e contrastarle. Questa attività si inserisce nel percorso di rafforzamento della rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte sui territori delle province di Novara, Biella e Vercelli. Grazie ai nuovi punti informativi la rete si avvicina ancora più alle persone a rischio di discriminazione, favorendo la diffusione di informazioni corrette, la consapevolezza e l'emersione di situazioni discriminatorie che troppo spesso rimangono taciute. Per maggiori informazioni sul nodo contro le discriminazioni della provincia di Novara e sulla rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte è possibile consultare il sito internet piemontecontrolediscriminazioni.it. Edisu da sempre sostiene il diritto allo studio, ma sentiamo. Fino al 22 aprile Edisu Piemonte celebrerà le giornate nazionali per diritto allo studio universitario. Tre giorni promosse dall'Andisu, l'associazione che riunisce i 37 enti regionali in Italia coinvolgerà tutto lo stivale per una grande festa dedicata all'informazione e all'orientamento degli studenti e delle studentesse sulle politiche del diritto allo studio universitario, i suoi benefici e numerosi servizi offerti. Il programma degli eventi a cura di Edisu Piemonte, che animeranno principalmente le città di Torino e Novara, è stato presentato nei giorni scorsi a Torino. Giornate di eventi dunque tra flash mob, tavole rotonde, divulgazione, formazione e informazione dedicate ai giovani e alle giovani che si apprestano a concludere il periodo scolastico e che si troveranno a breve ad operare una scelta importante per il proprio futuro, ovvero proseguire o meno il percorso di studi. Una scelta che spesso o inevitabilmente viene influenzata dalle condizioni economiche familiari ed è proprio in questo varco di incertezza che il ruolo di Edisu è fondamentale perché interviene a sostegno e a garanzia di uguale opportunità di accesso e sostegno concreto a studenti e studentesse capaci, meritevoli ma privi di mezzi durante gli studi universitari o di alta formazione accademica. Ed ora andiamo a Gattinara per i corsi di educazione stradale nelle scuole. È partito a Gattinara un progetto di educazione stradale voluto dal comune e realizzato insieme al comando della polizia locale. Il progetto è stato pensato e strutturato in base all'età degli allievi con l'obiettivo di far conoscere alcuni modi di comportamento sulle strade per garantire innanzitutto la propria sicurezza. Gli allievi della scuola dell'infanzia vengono così informati sui vari aspetti con un linguaggio per loro comprensibile che li mette nella condizione di apprendere i primi aspetti fondamentali del rapporto tra uomo e circolazione stradale. Per la scuola primaria pur partendo sempre dalla spiegazione di cosa sia la strada, chi la popola, quindi dal pedone alle auto, cosa siano i segnali stradali che ruolo abbia il semaforo, si intensificherà l'informazione e si illustreranno le interazioni tra pedone, ciclista e automobilista. In questa fase è prevista anche la passeggiata in strada per mettere i bambini di fronte alla realtà che vivono già tutti i giorni, magari senza un'attenta osservazione delle dinamiche. Il corso di educazione stradale è già iniziato con i bambini della scuola dell'infanzia, con i quali è stata svolta un'attività di conoscenza della segnaletica stradale di come attraversare la strada in sicurezza. Ed ora voltiamo pagina e vi parliamo dei corsi di leadership lanciati da Confindustria. Leadership e gestione di impresa. Fino al 25 maggio un ciclo di incontri per imprenditori giovani e non. Confindustria Novara Vercelli-Valsesi, in collaborazione con il suo gruppo Giovani Imprenditori, organizza un ciclo di incontri formativi destinati a incrementare conoscenze e competenze nella gestione e nell'organizzazione aziendale. Gli incontri sono gratuiti, hanno una durata indicativa di 4 ore ciascuno e sono finalizzati a far acquisire o perfezionare il know-how di chi riveste ruoli direttivi. Per la natura dei temi trattati, gli incontri sono dedicati alle generazioni di imprenditori più giovani che già si occupano di alcuni aspetti della vita di impresa, ma sono aperti anche a persone con maggiore esperienza che vogliono aggiornarsi e confrontarsi su aspetti rilevanti della gestione manageriale. L'Associazione Italiana lotta alle leucemie per l'Ucraina. Tutti i dettagli in questo servizio. La struttura di ematologia diretta dal professor Gaidano dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara si è messa a disposizione nelle settimane scorse per prendere in cura 5 ucraini, tutti giovani e con patologie molto gravi. Su richiesta della Linfoma Coalition abbiamo dato la nostra disponibilità, spiega il professore, grazie alla sensibilità mostrata dalla direzione generale e con la collaborazione dell'AIL di Novara che si occuperà della sistemazione degli accompagnatori. Alcuni pazienti ucraini o uncoematologici sono già sottoposti a cure presso l'Ospedale Maggiore di Trieste, il San Raffaele e l'Istituto Tumori di Milano e anche l'Arcospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, grazie sempre all'interessamento della Linfoma Coalition. A Novara l'arrivo è previsto nelle prossime settimane. Per Osalba Pisani, presidente dell'AIL Novara, ci stiamo attivando per trovare in questa fase emergenziale posti letto in struttura alberghiero simili o magari alloggi in affitto per ospitare gli accompagnatori. In questa fase finanzieremo noi l'ospitalità in attesa che le istituzioni possano individuare soluzioni strutturali per l'accoglienza. Il calcio, bella vittoria del Novara Football Club di Mr. Marchionni che nelle scorse ore davanti al pubblico amico dello stadio Piola ha battuto il Fossano per quattro reti a zero, tre delle quali su rigore. Assegno Gonzales al trentanovesimo su rigore, Vutai al settantaseiesimo e poi all'ottantottesimo su rigore e Laribi al terzo minuto di recupero del novantesimo, sempre su rigore. Ed ora parliamo dell'hockey sabato sera alle 20.45. Al Dallago l'Azzurra affronterà Scandiano nella partita di ritorno dei play-off alla ricerca della rimonta per raggiungere le semifinali. Ma sentiamo. Sabato al Dallago affrontate nuovamente Scandiano in gara 2. Due parole. È facile, c'è da vincere la partita, i ragazzi se lo meritano, il pubblico se lo merita, la città se lo merita. Quest'anno l'obiettivo primario era sicuramente ridare credibilità a questa disciplina. Credo che ci siamo riusciti, abbiamo riportato gente al palazzetto, abbiamo fatto dei risultati direi per il roster che avevamo molto buoni, per non dire ottimi. E c'è l'appendice del play-off, il play-off è una cosa strana, ogni partita va a sé. Sabato siamo andati senza due elementi importanti come potevano essere, come sono, Seba e Pablo. Qualcuna decisione arbitrale non è stata particolarmente felice, noi ci abbiamo messo del nostro. Dobbiamo recuperare due gol e una stagione in 50 minuti. Quindi faremo il possibile. Quindi sabato sera tutti al Dallago a sostenere l'Azzurra e a sostenere Novara. Più che l'Azzurra è la Novara, la Novara ocheistica che sta riprendendo piano piano, piano piano l'importanza che merita. Ringraziamo il pubblico che ci ha seguito all'inizio con qualche perplessità e via via sempre più numeroso e sempre più caloroso. L'abbiamo sentito, la vicinanza dalla curva, da molte persone che erano anni che non venivano al palazzetto. Lo spettacolo è uno spettacolo chiaramente da due, ma è un bello spettacolo, quindi vi aspettiamo tutti sabato alle nove, in un quarto. Come ti stai preparando e come la squadra si sta preparando per affrontare Scandiano sabato? Ci stiamo preparando che sarà la partita dentro fuori, quindi il mister ci ha chiesto di dare tutto. Ci stiamo preparando al meglio, sia dal punto di vista mentale che fisico. Saranno 50 minuti di fuoco dove chiedo l'apporto del pubblico novarese e da novarese che potrà essere una mano in più. Ed ora torniamo a parlare di ginnastica acrobatica e in particolare dei campionati del mondo che si sono svolti in Azerbaijan. Le atlete della Fantastic Gym, Amelia Ducci, Sharon Agazzone e Elisa Machiraldo hanno avuto l'onore di vestire per la quarta volta la maglia azzurra, rappresentando l'Italia nella rassegna mondiale più prestigiosa dedicata alla ginnastica acrobatica. Abbiamo intervistato Amelia Ducci. Con che aspettative sei andata in Azerbaijan? Allora, in Azerbaijan pensavo già di arrivare un po' su nella classifica, diciamo, tra le prime dieci, perché comunque sia avendo già fatto i mondiali prima, anche gli europei, ero già un po' più sicura di quello che riuscivo a fare rispetto a quando ho fatto il mio primo mondiale. E comunque sia, è sempre, anche se ne hai già fatti un tipo due o tre, una sensazione bella quando vai là. A che età hai fatto il tuo primo mondiale? Eh, dieci anni, che ero in coppia con Elisa. Quindi anche tu conosci molto bene, appunto, le tue compagne, ti trovi bene? Sì, eh sì, perché altro, perché passiamo la maggior parte del tempo insieme. Alcune volte magari passo anche più tempo con loro che con altre mie amiche o con la mia famiglia, quindi... Siete una grande famiglia anche voi. Qual è stata la nazione più forte, secondo te, a quest'ultimo mondiale? Eh, ma un po' tutte erano forti. Beh, di sicuro, a me piaceva un sacco, tipo Israele così, però questa volta anche l'Azerbaijan nel tri era molto forte. Quanti anni hai? Io 14, a novembre ne faccio 15. E che scuola fai? Liceo scientifico Galileo Galilei a Borgomanero. E anche tu, come consigli gli allenamenti, che sono ovviamente pesanti, soprattutto per arrivare a questi risultati, con il tuo tempo libero e con la scuola, che è anche una scuola impegnativa? Allora, è molto difficile, però cerco comunque sia di dedicarmi allo studio, ma fino a un certo punto, perché devo andare bene, però devo anche godermi un po' il resto della mia vita. E quindi devo studiare, sì, andare in palestra, ma devo anche vivermi del tempo, ad esempio, con le mie amiche. E quindi è difficile, ma ci riesco in qualche modo. Ed ora parliamo dell'associazione sportiva Veterani Hockey Novara, creata nei giorni scorsi. Sentiamo. È stata da poco fondata l'Hockey Novara Veterani. È una volontà da parte di chi si era magari allontanato un pochettino, di ritrovarsi con chi invece è rimasto all'interno del mondo hockey, a condividere un passato sicuramente importante, che la città dimostra di non avere mai dimenticato. Serviva qualcosa che potesse tentare, e uso la parola tentare d'obbligo, di ricucire un pochettino queste situazioni. Nel corso degli anni spesso ci sono stati tanti interpreti su più fronti a tenere alto il livello dell'Hockey, non che non lo sia in questo momento, anzi complimenti all'Azzurra, che ha fatto un campionato veramente importante e mi auguro che possa ribadire il tutto nei play-off che tra poco cominceranno. Però era giusto tentare la strada, per cui si mettessero insieme dei grandi pezzi del passato, con un presente che vuole cercare di individuare per il futuro delle tracce possibili, perché non dimentichiamolo il numero di scudetti, titoli, vinti, da una piazza come Novara che l'ha resa così importante e popolare, almeno a livello europeo. Ci fermiamo lì. Il tuo ruolo? Il mio ruolo, come sempre, è quello un po' di cicerone, perché già l'avevo fatto quando ancora giocavo. Credo di aver interpretato un ruolo molto particolare già a suo tempo. Ricordo che anche la Gazzetta dello Sport si interessò e mi dedicò incredibilmente una pagina intera perché il ruolo di giocatore attivo, abbinato a quella di voce che commentava lo sport, sia stata di gran lunga antesignana di quello che oggi succede abbastanza regolarmente. Un viziaccio che non ho perso nemmeno ai giorni nostri. Insomma, magari adesso sono più bravo col microfono e meno dall'altra parte, ma cercherò in ogni caso di metterci sempre quell'entusiasmo e quella voglia di vivere l'azzurro. Passiamo adesso ai prossimi appuntamenti dello Sporting Club Monterosa. Prossimi appuntamenti per lo Sporting Club Monterosa? Un appuntamento importante. Il 27, 28 e 29 maggio avremo un internazionale di completo. È un momento per noi molto interessante perché apriamo all'Europa e questo ci inorgoglisce. Sempre in quelle date ci sarà la non edizione di Cavalli e non solo, questo grande appuntamento di animali domestici a cui invitiamo sempre tutti. Anche quella è una festa di famiglie, una festa di uomini, animali, i nostri compagni di vita della quotidianità dove avranno la possibilità di esibirsi nel model pet, dovranno la possibilità di incontrarsi. Ci sarà anche l'International Show Dog di cani organizzato dal CBD. Quindi un grande happening di animali domestici, il più grande happening di animali domestici d'Italia. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Buona serata con i nostri programmi.